Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, location differente semplicemente perché non mi va da sedere le scale Allora, partita è fice 0-0, mi rimane la mare in bocca perché insomma di che volevo vincere questa partita mi pare abbastanza scontato Cioè uno vuole vincere tutte le partite ovviamente, ne vuole vincere tutte perché se vincevamo tutte stavamo a più 10 punti da Juve E' una partita che comunque potevi vincere tranquillamente perché era una partita in casa contro il Verona Che è una squadra buona perché è una squadra buona perché gioca bene il Verona, fa sempre delle buone partite Però in casa con il Verona si può vincere tranquillamente e invece comunque hai fatto una buona partita Cioè ti ha detto anche sfiga perché ti ha detto sfiga, hai preso i solidi pali che quelli ormai non mancano mai Luisa Alberto è veramente purello, cioè niente, non gliela fa segnare Il portiere loro ha fatto delle grandi parate però comunque è una partita che potevi tranquillamente perdere Nel senso pure loro ci hanno avuto le loro occasioni quindi alla fine il pareggio è un risultato che ci sta Certo, la potevi vincere, cioè se vinciamo noi non rubavamo nulla alla fine Però un pareggio ci può stare e alla fine rimani comunque stai a meno 4 dalla Ju Certo potevi superare l'Inter, potevi andare a meno 2 e che te pare che non, che te pare che non Cioè magari però comunque stiamo, cioè ragazzi vi voglio dire Noi l'obiettivo nostro è la Champions, stiamo a più 11 punti dal quinto posto Cioè voglio dire non si poteva proprio lamentare, ma non si poteva proprio lamentare A me va benissimo così, certo te rode perché potevi vincerla Però ragazzi ci può stare, la cosa che mi dispiace è che ora andiamo a Parma senza Milinkovic Manca pure Radu, però vabbè Correa non c'è perché se è fatto male torna, sarà in panchina ma non ci sarà Il problema ragazzi della Lazio è anche quello che noi oggi stavamo al 60esimo, 70esimo quando abbiamo fatto i cambi Che non ce l'hai i cambi, non ce li hai, hai fatto entrare Marusic Cioè per farvi capire, il nostro cambio è stato fare entrare Marusic Tu così le vuoi vincere le partite con Marusic in campo? Regà, noi abbiamo iniziato a vincere tutte le partite perché Marusic non giocava Quindi voglio dire, uno più uno fa due Johnny, boh, io non riesco ancora a dir Non so cosa pensare di quel giocatore Non lo so, sinceramente io avrei preferito far entrare a Lukaku però vabbè ma che cacchio ne so Però ragazzi il problema è questo, è che la nostra rosa è corta È corta quindi già il fatto che comunque non abbiamo la Coppa Italia, non abbiamo le coppe in generale Da una parte favorevole nel campionato però appena ci si rompono due giocatori a Callaghe Non c'hai più i cambi, Cataldi ti sei rotto, Correa ti sei rotto, ti sei rotto Ti si rompono due giocatori e tu non sai più chi fa entrare, fa entra Marusic per cambiare la partita Questa è una cosa Quindi niente ragazzi, oggi è andata così Vabbè, vabbè, c'è la mano in bocca C'è, però comunque Se può fa, se può fa Ma l'importante comunque È a Parma è una partita fondamentale ragazzi È a Parma è una partita fondamentale perché Fondamentale, fondamentale Poi sei senza Milinkovic Non è certa se hai mangiato Che sei mangiato davanti alla porta Non sei raccorto, gli è arrivata qua la palla perfetta Mamma mia, vabbè Ragazzi è andata così Andata così, pareggio 0-0 Farò uscire sta Live Reaction domani Ma chi mi sa veda Live Reaction 0-0 Boh Io la pubblico lo stesso Niente ragazzi, noi ci vediamo Vabbè, domani va la Live Reaction E domenica sperando con un post partita dopo una vittoria